È un peccato vivere un'intera vita inconsciamente, guidati solamente dalla collezione delle nostre esperienze sgradevoli del passato, che ci guidano inconsciamente nei nostri modi di fare. Ovviamente noi siamo il risultato di tutto quello che abbiamo vissuto dall'infanzia fino ad oggi, perciò chi ha vissuto nei ambienti supportivi sicuramente ha un modo di fare più accogliente, rispetto a chi ha vissuto nei ambienti ostili che magari inconsciamente oggi nei suoi modi di fare si trova a fare i pugni con tutti. Non meravigliamoci se alcuni dei nostri rapporti di amicizia sentimentali finiscono non necessariamente per incompatibilità caratteriale, non necessariamente per colpa loro, ma anche a causa dei miei comportamenti che forse metto in atto ripetutamente e che non fanno altro che allontanare gli altri. Ed ecco, in questo video parlo proprio di questo, parlo di comportamenti che mettiamo in atto che possono allontanare gli altri. Entro nel tema e vi dico il primo. Ti scandalizzi spesso e critichi tutto, tutto e tutti. Ecco, queste persone proiettano, ok, sugli altri la propria frustrazione verso il mondo, verso il mondo che è un posto sgradevole, verso, critica tutti dal partner che è accanto, al vicino di casa, alla coniata, al collega, agli amici, a, non so, critica Chiara Ferrani, la società, ecco, sono dei comportamenti che sicuramente non attirano le altre persone a noi, anzi, perciò è meglio concentrarsi, invece che essere attenti su quello che succede, su quello che fa uno, come dovrebbe far l'altro, è meglio concentrarsi sulla propria condotta per dare il proprio contributo positivo a questo mondo. Ovviamente il partner, gli amici, i colleghi, i familiari, non sono così felici ad avere accanto una persona che è sempre indignata, che è sempre arrabbiata, che ha sempre da dire una parola, una correzione per uno, un'altra parola negativa e critica per l'altro. Si può vivere bene senza necessariamente sminuire, screditare l'altro. Ed ecco come è un logorarsi avere accanto una persona così sempre negativa, sempre critica. Un altro aspetto è la diffidenza eccessiva, è la difficoltà nel fidarsi degli altri. Ecco, le persone che hanno questa difficoltà, che fanno fatica a fidarsi del prossimo, ad aprirsi a nuove connessioni, a nuovi legami, ovviamente comporta a lungo termine un allontanamento da parte delle persone. Perché a nessuno piace avere sempre di fronte una persona che è sempre diffidente, è sempre attenta, ha sempre questi comportamenti di ipervigilanza nei confronti di tutti. Perciò questa cautela è eccessiva, essere sempre in guardia perché al di fuori ci sono possibili pericoli, minacce, la gente è stronza, non bisogna fidarsi. Perciò eccessiva cautela crea comunque, ti porta alla lunga all'auto isolamento, perché non ti fidi di nessuno se non del tuo piccolo e stai nel tuo piccolo. Perciò ti isoli dal mondo e anche per paura ovviamente di non essere nuovamente ferito. Perciò ecco come questi comportamenti magari inconsci ti porta a non avere più connessioni con gli altri e nemmeno gli altri non sono così attirati a venire sempre a trovarti nel tuo piccolo castello di finta sicurezza. Un altro punto, un altro comportamento è mettere l'ansia all'altro. Alcuni crescendo hanno imparato questa modalità pressante, ok, di fare tutto se è possibile in anticipo o comunque subito e in immediato. Vedo questo tratto in tante persone, no? E ovviamente vivono male, vivono male questa, quest'ansia, no? Per ogni piccola cosa ed è un costrutto talmente potente che è parte della loro personalità. Però per chi vive accanto a te, per chi ha contatti frequenti con te, non so, dal partner all'ambiente di lavoro, amicizie, ovviamente non è piacevole avere una persona così sempre in ansia anche per le piccole cose. Questo comportamento ovviamente toglie la gioia, toglie la spontaneità, toglie la gioia di vivere con leggerezza ovviamente. Tutto diventa una fonte di stress non solo per questa persona ma anche per chi si trova accanto a questa persona. Perciò questa persona incapace a rilassarsi, anche se per esempio, non so, alle 16 devo essere dalla parrucchiera. Perciò tutto il giorno fino alle 16 resta in questo stato di agitazione, di ansia perché sa che deve essere alle 16 lì e magari arriva lì mezz'ora in anticipo, oppure, non so, una cena dagli amici tutto il giorno, resta in questo stato d'ansia, ok? Quando la cosa deve essere molto piacevole, no? Quando esci, trovi gli amici. Per queste persone è impossibile, è impossibile vivere una situazione piacevole con leggerezza. Ovviamente questo incide tantissimo sul partner, per esempio, che magari deve assorbire questo stato d'ansia. E sì, è dannoso alla lunga un comportamento così per se stessi ma anche per gli altri. Perché sì, non sono capaci a rendersene conto del proprio disagio e che il proprio disagio impatta anche sulle persone che stanno intorno. Un altro punto invece è la vittima perpetua. Io sono la vittima del mio partner, dei miei figli, mi sono sacrificata, una vita intera di sacrificio, ho vissuto con i noni, con i bisnoni, ho dovuto accudirli, nessuno mi ha mai dato niente in regalo, nessuno mi ha mai regalato nulla, mi sono sempre sacrificato, ho dovuto sacrificare la mia vita, sono la vittima di tutti, la vittima del destino. Beh, una persona così ovviamente non è tanto ricercata dagli altri. Non è piacevole aver accanto una persona che racconta sempre, che ha questo modus operandi, che racconta sempre la stessa storia all'ennesima potenza per l'ennesima volta. Ed è possibile anche che una persona ha avuto una vita così, di sacrificio, è possibile questo, ma siamo evoluti, ma siamo comunque chiamati ad andare oltre, perché dobbiamo vivere comunque la nostra vita e possiamo viverla in mondo diverso, se siamo consapevoli dei comportamenti dannosi che mettiamo in atto. Ovvio che questa persona non è tanto ricercata magari di chi vede la vita in modo diverso, da chi combatte nonostante il passato umbroso, diciamo, decide di non arrendersi. È difficile che queste persone vanno a frequentare una persona che pensa di essere e vive in questo stato vittimistico. A nessuno piace ovviamente incontrare una persona che racconta, ok, continuamente, la stessa storia, la incontri, inizia a dirti questo, finisce l'incontro, finisce così, la prossima volta che la incontri, beh, inizia ancora la storia, la stessa storia, ovvio che l'altro perde i sensi, alla lunga si stanca, alla lunga si allontana. Un altro punto è zero resilienza. C'è chi al minimo cambiamento, nell'ordinario, diciamo, scoppia, non regge, scarsissima tolleranza ai cambiamenti. Beh, non è positivo e dannoso, soprattutto per se stessi, ma anche per chi vive intorno a questa persona. Una persona che ha così scarsa tolleranza alle cose che non sono proprio così come le ha concepite. Anche perché una persona così dice, e vedi, tutto va storto, e perché proprio a me, ma perché sempre a me, vedi, è il destino, è il destino, sono vittima, e va sempre così, povero me, povera me. Covare questa rabbia non fa bene né a se stessi, ma ferisce comunque anche le persone che ha intorno a sé. E se non c'è una minima consapevolezza dei propri comportamenti, dei propri schemi, non c'è neanche possibilità di cambiare la propria vita. ovviamente, perché chi si comporta inconsciamente in questo modo non sa di esserlo, non sa che la causa è la propria persona, ma pensa che sono gli altri, sono sempre gli altri, è questo mondo sbagliato, è questo destino che mi punisce. Perciò ecco, è stato questo il mio video di oggi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere le vostre riflessioni. Sappiate che il 5 di aprile, il venerdì, per un periodo di due mesi, ci sarà un percorso di gruppo che si chiama Mindset Revolution, che cambia la mentalità, che rompe gli schemi, i schemi dannosi per noi stessi, ci rende più resilienti, ci guida verso una rinascita, soprattutto per chi è uscito da un rapporto disfunzionale. Grazie, grazie che siete stati con me, vi lascerò comunque i dettagli e il link della pre-iscrizione qua sotto, nella descrizione del video. Che dir altro? Lasciatemi un like se vi è piaciuto questo tema, iscrivetevi al mio canale, io ci tengo moltissimo. Grazie di cuore, ci vediamo presto, presto. Grazie. Grazie.